La ragazza che cammina sullo sfondo ha 24 anni e barese ma abita a Capurso e in tasca ha un iPhone rubato poco prima in una stanza del policlinico. Gli agenti delle volanti hanno localizzato il telefono, era vicino a una clinica privata barese. A quel punto le telecamere di sorveglianza l'hanno seguito sino a che non è arrivata la pattuglia che ha arrestato la 24enne dopo la convalida e tornata in libertà. I poliziotti ora stanno controllando le precedenti denunce di furto in ospedale per capire se la descrizione corrisponda. È finito in carcere invece un 39enne che ha pensato bene di minacciare di morte un condomino nel quartiere San Paolo brandendo un coltello da cucina che gli è stato tolto da un altro inquilino. Pare che tutto sia nato per una porta danneggiata, quando gli agenti lo hanno bloccato gli hanno trovato un altro coltello. Sempre al San Paolo le volanti hanno arrestato un 45enne che dopo aver rubato gioielli in un appartamento stava scendendo dall'impalcatura apposta dinnanzi al palazzo. Ancora ladri in appartamento, questa volta Giorgiani in due sono stati sorpresi mentre cercavano di aprire la porta di un'abitazione e per tutta risposta hanno aggredito i poliziotti. Devono rispondere di tentata rapina impropria, ricettazione e porto ingiustificato di arnesi da scasso. Tra auto e casa questo è l'armamentario sequestrato dalle volanti. Grazie.